Svevo Psicanalisi 3 maggio 1915 L'ho finita con la psicanalisi Dopo averla praticata assiduamente per sei mesi interi T'ho peggio di prima Non ho ancora congedato il dottore ma la mia risoluzione è irrevocabile Iari intanto mi mandai a dire che ero impedito E per qualche giorno lasciò che mi aspetti Se fossi ben sicuro di saper ridere di lui senza dirarmi Sarei anche capace di rivederlo Ma ho paura che finirai col mettergli le mani addosso In questa città dopo lo scoppio della guerra Ti si annoia più di prima E per rimpiazzare la psicanalisi Io mi rimetto ai miei cari fogli Da un anno non avevo scritto una parola In questo come in tutto il resto Obbediente alle prescrizioni del dottore In quale asseriva che durante la cura Dovevo raccogliermi solo accanto a lui Perché un raccoglimento da lui non sorvegliato Avrebbe rafforzato i freni che impedivano la mia sincerità Il mio abbandono Ma ora mi trovo squilibrato e malato più che mai E scrivendo Credo che mi netterò più facilmente Del male che la cura mi ha fatto Almeno sono sicuro che questo È il vero sistema per ridare importanza Ad un passato che più non duole E fare andare via più rapido Un presente uggioso Tanto fiduciosamente Mi ero abbandonato al dottore Che quando egli mi disse che ero guarito Gli credetti con fede intera E invece non credetti ai miei dolori Che tuttavia mi assalivano Dicevo loro Non siete mica voi Ma adesso non ve dubbio Sono proprio loro Le ossa delle mie gambe Si sono convertite in lische vibranti Che le dono la carne e i muscoli Ma di ciò non mi importerebbe gran fatto E non è questa la ragione per cui lascio la cura Se le ore di raccoglimento presso il dottore Avessero continuato ad essere interessanti A portatrici di sorprese E di emozioni Non le avrai abbandonate O per abbandonarle avrai atteso la fine Della guerra Che mi impedisce ogni altra attività Ma ora che sapevo tutto Cioè che non si trattava d'altro Che di una sciocca illusione Un trucco buono per commuovere Qualche vecchia donna isterica Come potevo sopportare La compagnia di quell'uomo ridicolo Con quel suo occhio Che vuole essere scrutatore E quella sua presunzione Che gli permette di aggruppare Tutti i fenomeni di questo mondo Intorno alla sua grande nuova teoria Impiegherò il tempo che mi resta libero Scrivendo Scriverò intanto sinceramente La storia della mia cura Ogni sincerità fra me e il dottore Era sparita Ed ora respiro Non mi è più imposto alcuno sforzo Non debbo costringermi ad una fede Né ho da simulare di averla Proprio per celare meglio Il mio vero pensiero Credevo di dover dimostrargli Uno sequio supino E lui ne approfittava Per inventarne ogni giorno di nuove La mia cura doveva essere finita Perché la mia malattia Era stata scoperta Non era altro che quella Diagnosticata a suo tempo Dal defunto soffo Che sul povero edipo Avevo amata mia madre E avrei voluto ammazzare mio padre Ne io mi arrabbiai Incantato stetti a sentire Era una malattia che mi elevava Alla più alta nobiltà Cospicua quella malattia Di cui gli antenati Arrivavano all'epoca mitologica E non mi arrabbio neppure adesso Che sono qui solo Con la penna in mano Ne rido di cuore La miglior prova Che io non ho avuto Quella malattia Risulta dal fatto Che non ne sono guarito Questa prova Convincerebbe anche il dottore Se ne dia pace Le sue parole Non poterono guastare Il ricordo della mia giovinezza Io chiudo gli occhi E vedo subito puro Infantile Inzenuo Il mio amore per mia madre Il mio rispetto E il grande mio affetto Per mio padre Il dottore presta Una fede troppo grande Anche a quelle mie Benedette confessioni Che non vuole restituirmi Perché le riveda Dio mio Egli non studiò Che la medicina E perciò ignora Che cosa significa Scrivere in italiano Per noi che parliamo E non sappiamo Scrivere il dialetto Una confessione Iniscritto E sempre menzognera Con ogni nostra parola Toscana Noi mentiamo Se egli sapesse Come raccontiamo Con predilezione Tutte le cose Per le quali Abbiamo pronta la frase E come evitiamo Quelle che ci obbligherebbero Di ricorrere al vocabolario E' proprio così Che scegliamo Della nostra vita Gli episodi da notarsi Si capisce Come la nostra vita Avrebbe tutt'altro aspetto Se fosse detta Nel nostro dialetto Il dottore mi confessò Che In tutta la sua lunga pratica Già mai Gli era avvenuto Di assistere Ad un'emozione Tanto forte Come la mia All'imbattermi Nelle immagini Che gli credeva Di aver saputo Procurarmi Perciò Anche fu tanto pronto A dichiararmi Guarito Ed io Non simulai Quell'emozione Fu anzi Una delle più profonde Che io abbia mai avuta In tutta la mia vita Madida Di sudore Quando l'immagine Creai Di lacrime Quando l'ebbi Io Avevo già Adorata La speranza Di poter rivivere Un giorno D'innocenza E di ingenuità Per mesi e mesi Tale speranza Mi resse E mi animò Non si trattava Forse di ottenere Col vivo ricordo In pieno inverno Le rose del maggio Il dottore stesso Assicurava che il ricordo Sarebbe stato Vicente e completo Tale che avrebbe rappresentato Un giorno di più Nella mia vita Le rose Avrebbero avuto Il loro pieno effluvio E magari anche E magari anche le loro spine Eppure quel bestione Non sempre mi credette Tanto avvenenato Ciò viene provato Anche dalla rieducazione Che gli tentò Per guarirmi Da quella Che gli diceva La malattia del fumo Ecco le sue parole Il fumo Non mi fece male E quando mi fossi convinto Che era innocuo Sarebbe stato Veramente tale E poi continuava Ormai che i rapporti Con mio padre Erano stati riportati Alla luce del giorno E ripresentati Al mio giudizio Di adulto Potevo intendere Che avevo assunto Quel vizio Per competere Con mio padre E attribuito Un effetto Venenoso Al tabacco Per il mio intimo Sentimento morale Che volle punirmi Della mia competizione Con lui Quel giorno Lasciai la casa Del dottore Fumando come un turco Si trattava Di fare una prova Ed io Mi vi prestai Volentieri Per tutto il giorno Fumai ininterrottamente Segui poi Una notte Del tutto insonne La mia bronchite cronica Aveva rifiorito E di quella Non c'era dubbio Perché era facile Scoprirne le conseguenze Nella sputacchiera Il giorno appresso Raccontai al dottore Di aver fumato molto E che ora Non me ne importava più Il dottore Mi guardò sorridendo Ed io Indovinai Che il petto Gli si gonfiava Dall'orgoglio Con calma Riprese la mia Rieducazione Procedeva Con la sicurezza Di veder fiorire Ogni zolla Su cui poneva il piede Di quella Rieducazione Ricordo pochissimo Io La subii E quando Uscivo da quella Stanza Mi scotevo Come un cane Che esce dall'acqua E anch'io Restavo umido Ma non bagnato Ricordo però Con indignazione Che il mio educatore Asseriva Che il dottor Kaprocic Avesse avuto ragione Di dirigermi Le parole Che avevano provocato Tanto mio risentimento Ma allora Gli avrei meritato Anche lo schiaffo Che mio padre Volle darmi Morendo? Non so Se gli abbia detto Anche questo So invece Con certezza Che gli asseriva Che io avessi odiato Anche il vecchio Malfenti Che avevo messo Al posto Di mio padre Tanti a questo mondo Credono Di non saper vivere Senza un dato affetto Io invece Secondo lui Perdevo l'equilibrio Se mi mancava Un dato odio Ne sposai Una o l'altra Delle figliuole Ed era indifferente Quale Perché si trattava Di mettere Il loro padre Ad un posto Dove il mio odio Potesse raggiungerlo Poi Sfregiai la casa Che avevo fatta mia Come meglio seppi Tradì Mia moglie Ed è evidente Che se mi fosse riuscito Avrei seduta Ada E anche Alberta Naturalmente Io non penso Di negare questo Ed anzi Mi fece da ridere Quando Dicendomelo Il dottore Assunse l'aspetto Di Cristoforo Colombo Allorché raggiunge L'America Credo però Che gli sia il solo A questo mondo In quale Sentendo Che volevo andare a letto Con due bellissime donne Si domanda Vediamo Perché costui Vuole andare a letto Con esse Mi fu anche più difficile Di sopportare Quello che gli credete Di poter dire Dei miei rapporti Con Guido Dal mio stesso racconto Egli aveva Preso dell'antipatia Che aveva accompagnato L'inizio Della mia relazione Con lui Tale antipatia Non cessò mai Secondo lui E Ada Avrebbe avuto ragione Di vederne L'ultima manifestazione Nella mia Assenza dal suo funerale Non ricordo Che io ero allora Intento Nella mia opera d'amore Di salvare Il patrimonio Di Ada E io mi dagnai Di ricordarglielo Pare che il dottore A proposito di Guido Abbia fatto anche Delle indagini Egli asserisce Che scelto da Ada Egli non poteva essere Quale io Lo descrissi Scoperse Che un grandioso Deposito di legnami Vicinissimo Alla casa Dove noi Pratichiamo La psicoanalisi Era appartenuto Alla ditta Guido Sbaglio E ci Perché Non ne avevo io Parlato Se ne avessi parlato Sarebbe stata Una nuova difficoltà Nella mia esposizione Già tanto difficile Questa eliminazione Non è che la prova Che una confessione Fatta da me In italiano Non poteva essere Né completa Né sincera In un deposito Di legnami Ci sono varietà Enormi Di qualità Che noi A Trieste Appelliamo Con termini Barbari Presi dal Violetto Dal croato Dal tedesco E qualche volta Persino dal francese Zapin Per esempio E non equivale Mica a Sapin Chi mi aveva fornito Il vero vocabolario Vecchio come sono Avrei dovuto Prendere un impiego Da un commerciante In legnami Toscano Dal resto Il deposito Di legnami Della ditta Guido Svaiere C Non diede Che delle perdite E poi Non avevo Da parlarne Perché rimase Sempre inerte Salvo quando Intervennero I ladri E fecero volare Quel legname Dai nomi Barbari Come se fosse Stato destinato A costruire Dei tavolini Per esperimenti Spiritistici Io Proposi al dottore Di prendere Delle informazioni Su Guido Da mia moglie Da Carmen Oppure da Luciano Che è un grande De commerciante Noto a tutti A mio sapere Egli non si indirizzò A nessuno Di costoro E devo credere Che se ne astenne Per la paura Di veder precipitare Per quelle informazioni Tutto il suo edificio Di accuse E di sospetti Chissà perché Se si è preso Di tale odio Per me Anche lui Deve essere Un istericone Che per avere Desiderata in vano Sua madre Se ne vendica Su chi Non c'entra affatto 24 marzo 1916 Dal maggio Dell'anno scorso Non avevo più Toccato questo Ribercolo Ecco che Dalla Svizzera Il dottoresse Mi scrive Pregandomi Di mandargli Quanto avessi Ancora annotato Ha una domanda Curiosa Ma non ho nulla In contrario Di mandargli Anche questo Ribercolo Dal quale Chiaramente Vedrà Come io La pensi Di lui E della sua Cura Già che possiede Tutte le mie Confessioni Si tenga anche Queste poche pagine E ancora qualcuna Che volentieri Aggiungo Alla sua edificazione Ma al signor Dottoresse Voglio Pur dire Il fatto suo Ci pensai Tanto Che ormai Ho le idee Chiare Intanto Egli crede Di ricevere Altre confessioni Di malattia E debolezza E invece Riceverà La descrizione Di una salute Solida Perfetta Quanto la mia Età Abbastanza Inoltrata Può permettere Io Sono Guarito Non solo Non voglio fare La psicoanalisi Ma non ne ho Neppure di bisogno E la mia salute Non proviene Solo dal fatto Che mi sento Un privilegiato In mezzo A tanti martiri Non è per il confronto Che io mi sento sano Io sono sano Assolutamente Da lungo tempo Io sapevo Che la mia salute Non poteva essere Altro che la mia Convinzione E che era Una sciocchezza Degna di un Sognatore Epnagogico Di volerla curare Anziché persuadere Io soffro Bensì Di certi dolori Ma Mancano Di importanza Nella mia Grande salute Posso mettere Un impiastro Qui o là Ma il resto Ad amuoversi E battersi E mai indugiarsi Nell'immobilità Come gli incancreniti La vita In dolore E amore Poi La vita Insomma Non può essere Considerata Quale una malattia Perché duole Ammetto Che per avere La persuasione Della salute Il mio destino Dovette mutare E scaldare Il mio organismo Con la lotta E soprattutto Col trionfo Fu il mio commercio Che mi guarì E voglio Che il dottoresse Lo sappia Atonito Inerte Stetti a guardare Il mondo sconvolto Fino al principio Dell'agosto Dell'anno scorso Allora io Cominciai A comperare Sottolineo Questo verbo Perché ha un significato Più alto Di prima della guerra In bocca di un commerciante Allora Significava Che egli era disposto A comperare Un dato articolo Ma quando io lo dissi Vogli significare Che io ero Compratore Di qualunque merce Che mi sarebbe Stata offerta Come tutte le persone forti Io ebbi Nella mia testa Una sola idea E di quella Vissi E fu la mia fortuna Olivi non era A Trieste Ma E' certo Che gli non avrebbe Permesso Un rischio Simile E lo avrebbe Riservato Agli altri Invece per me Non era Un rischio Io Ne sapevo Il risultato Felice Con piena certezza Da prima M'ero messo Secondo l'antico Costume In epoca di guerra A convertire Tutto il patrimonio In oro Ma aveva Una certa Difficoltà Di comprare E vendere Dell'oro L'oro Per così dire Liquido Perché più mobile Era la merce E ne feci Incetta Io Effettuo Di tempo In tempo Anche delle vendite Ma sempre In misura inferiore Agli acquisti Perché cominciai Nel giusto momento I miei acquisti E le mie vendite Furono tanto felice Che queste Mi davano I grandi mezzi Di cui Abbisognavo Per quelli Con grande orgoglio Ricordo che Il mio primo acquisto Fu addirittura Apparentemente Una sciocchezza E inteso Unicamente A realizzare Subito La mia nuova idea Una partita Non grande D'incenso Il venditore Mi vantava La possibilità Di impiegare L'incenso Quale un sunere Secondo la mia idea Il mondo Sarebbe arrivato A una miseria tale Da dover accettare L'incenso Quale un surrogato Della resina E comperai Pochi giorni or sono Ne vendetti Una piccola parte E ne ricavai L'importo Che mi ero accorso Per appropriarmene Della partita intera E al momento In cui incassai Quei denari Mi si allargò Il petto Al sentimento Della mia forza E della mia salute Il dottore Quando avrà ricevuta Quest'ultima parte Del mio manoscritto Dovrebbe restituirmelo Tutto Lo riferei Con chiarezza vera Perché come potevo Intendere la mia vita Quando non conoscevo Quest'ultimo periodo Forse io vissi Tanti anni Solo per prepararmi Adesso Per preparare la mia vita Per preparare la mia vita Per preparare la mia vita